Giorgia Romei buonasera e ben trovata è un flash acquatico ma lei è una zurrina mi dicono velocissima sui quattro sugli otto è vero? Velocista sono, non velocissima, velocissima. Come velocissima? Vai un po' più indietro per favore! Ma partiamo già subito così, vogliamo fare tipo la pellegrini per caso e la pellegrini nel senso tutta quanta attenta alla forma eccetera eccetera, anche alla sostanza, insomma lei è una zurrina, quale challenge ha per i prossimi mondiali di Indianapolis? Come vai in America e non sai cosa vuol dire? Sfida! Qual è la sfida? Migliorarsi il più possibile, se si può il mare un pochettino nel tempo, nei quattro stile... Diamo un po' di numeri, altezza? Una mia? Di più, 1.81 mi hanno detto, è quel centimetro che fa? E poi sui quattro quanto tempi? Quattro, dieci, quattro. E quello già lo sapevo. E negli otto? Negli otto, otto e trentasette. Ma scusa, tu ti senti più Mizzau o Quadarella? Madonna! La domanda è, mi sento Giorgia e basta! Ti senti Giorgia da Genova, dico bene? Giorgia da Genova, sì. È uno spettacolo, quindi il challenge... Siente la cadenza un po'. Pochettino, pochettino, insomma voglio dire. Il challenge è quello di andare al prossimo salotto acquatico, quando farà il risultatone al Mondiale di Indianapolis. La salotta qua, sì! Eh? Eh? Vogliamo salutare gli amici di Swim Beats? Ciao a tutti gli amici di Swim Beats! Ciao, alla prossima! Ciao!